Casanova comincia a diventare un mito nella seconda metà dell'Ottocento, con la diffusione della sua autobiografia, che viene stampata e ristampata un po' in tutte le lingue, perché il tema del sesso viene utilizzato per vendere il libro sostanzialmente. E quindi lo si vuole mostrare come un grande seduttore e non lo si mostra invece per quello che era, cioè un uomo di vasta cultura e dagli interessi molteplici. Lo si in qualche modo affianca Don Giovanni, anche se i numeri di Don Giovanni sono infinitamente superiori rispetto a quelli di Casanova e comunque gode di un notevolissimo successo editoriale da morto, perché Storia della mia vita viene pubblicata a postuma, la prima edizione del 1822 e quindi diventa poi il seduttore per l'antonomasia, quindi o un Don Giovanni o un Casanova.